Sindaco, i cittadini di Cutro non potranno mai dimenticare quello che è accaduto a steccato di Cutro con il naufragio? Noi non abbiamo mai dimenticato, perché chi ha vissuto queste immane tragedie ce le è indelebile nella mente. Per cui noi, proprio per non dimenticare, abbiamo creato il cimitero islamico subito dopo il naufragio. Perché vedete, la nostra comunità da sempre, chi ha vissuto l'emigrazione, chi per studi, chi per lavoro, ha in mente perfettamente che questa gente migra per disperazione, quindi lasciando affetti, a volte partono e sanno di non arrivare, quindi ci fa capire come vivono nelle loro realtà. E quindi questo va nella direzione che noi come popolo di Cutro siamo stati accoglienti fin da subito, anche perché, ripeto, non abbiamo inteso l'accoglienza come dare il piatto di pasto alla coperta. Noi siamo già avanti, siamo all'integrazione e gli scambi culturali, perché c'è una grossa comunità islamica. Quindi noi, io stesso sono stato in Marocco in giugno e poi a seguito del terremoto, qui abbiamo avuto un momento di fraternità comune, pregando ognuno con il proprio credo. E abbiamo avuto la presenza anche del Consile Marocchino di Napoli, proprio per dire che noi ci siamo come comunità, non cutrese, ma comunità di ogni nazione. Quindi Cutro, questo credo che l'abbia sentito. Le cose che ci displegano non mi appartengono. Noi dobbiamo essere solidari contro la drangta, dobbiamo essere solidari contro l'indigenza, contro i disservizi, contro quello che ci manca. Perché vedete, quando poi si mettono in atto queste diatribe, perché qui, perché qui, io ritorno a dire che chi è senza peccato scagli la prima pietra. Io sono convinto che le pietre rimarrebbero tutte a terra, perché al governo, rispetto a questo fenomeno, ci sono stati tutti. Se ancora esiste, vuol dire che non è di facile soluzione. Allora, finiamola con queste cose. Ho visto anche i centri di Stato venire qui a deporre il mazzo di fiore in silenzio. La maggior parte delle vittime di Cutro, se non tutte, sono musulmani, provenienti principalmente dall'Afghanistan e alcuni dall'Iran. Continuiamo a piangere queste vittime, perché dalla strage di Cutro abbiamo sempre detto mai più. Ma se andiamo a vedere i numeri, ci sono sempre più sbarchi, sempre più naufragi, sempre più morti. Abbiamo bisogno assolutamente di interrogare le nostre coscienze sul fatto se stiamo davvero facendo abbastanza per salvare queste vite umane o meno. Cosa ci dice su questa scultura che lei ha realizzato? Il titolo è per non dimenticare, perché purtroppo spesso davanti a una tragedia se ne parla e poi si dimentica. Quindi il mio obiettivo, siccome sono uno scultore, è quello di realizzare un'opera che resta nel tempo e che fa riflettere. Infatti l'ho portata anche a Cosenza, in alcune scuole, proprio perché ritengo che bisogna far capire ai giovani che è un qualcosa che ci appartiene a tutti.